150 vamos vamos ragazzi il letto sicilio qual è? aiutati 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 aspetta vi posso inquadrare? Anthony ma l'estate che tempo fa a Lucerna? questa è una bella domanda potreste anche rispondere e farci sapere esiste il sole vamos vamos ragazzi ragazzi chiudiamo da Palermo un bacio ci vediamo alla prossima diretta grazie di cuore a tutti voi a casa grazie 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 vamos ragazzi piazza Verdi ragazzi eccoci qua c'è anche Mimmo eccoci di nuovo insieme col mitico Mimmo buongiorno Mimmo saluti a tutti ragazzi bella giornata Mimmo dove sei stato? in giro un po' in giro saliamo Rosi Settembrino del Villa Raimondo buongiorno amici bentornati in diretta ciao Giu c'è Giussi vamos vamos ragazzi no ragazzi ovviamente sto bevendo Jeffrey quindi per adesso la devo tenere per forza abbassata saliamo a inchiagota Gian Quinto accetta allora ragazzi vediamo che cosa ha da dire Anthony i miei voti non li ha eletti Giussi aspetta perché forse ero preso dal commento di Anthony buongiorno cerchiamo sempre di migliorarci Giussi grazie di cuore amica mia buongiorno frate sto a posto ti faccio guardare con Mimmo ciao Mimmo Cino Cino guarda che ti aspetta un minuto aspetta dici qua siamo qua siamo 160 in diretta ragazzi ah la Red Bull la concorrenza non si fa noi siamo per la Bar questa mattina ragazzi quindi questa questa Red Bull insomma non è che sia quanto costa però 1 euro e 40 ah poco siamo rimasti scioccati da questo prezzo però se vuoi dirci eh vamos vamos ragazzi ragazzi chiudiamo da qui ci vediamo alla prossima diretta ragazzi tanti saluti da Palermo ragazzi grazie di cuore a tutti davvero per averci seguito chiudiamo con qua vamos vamos ragazzi ciao Gaetano un saluto amici di Panorama Italy bentornati in diretta ciao Giussi salutiamo a Giussi che mi sono dimenticato di avvisarla Mimmo salutiamo a Giussi ciao Giussi Giussi sono partita al volo perché ragazzi era già tardi ho dimenticato di mandarti un messaggio intanto mio fratello non ha fatto qualche regalino mi ha inviato qualche stella vamos vamos ragazzi Mimmo un sacco di gente qua giriamo un po' la cam così evitiamo di inquare troppo la gente che dici Mimmo sì sì bella serata ci inquadriamo noi ci inquadriamo noi ragazzi in questo tratto con questo vi faccio vedere un po' la situazione qui alla chiesa di San Francesco che è un posto davvero magico del nostro territorio salutiamo gli amici di New Orleans vamos vamos ragazzi guardate che sono bello il caratteristico che sia stato Mimmo vamos vamos ragazzi diciamo ragazzi che in questa parte del centro storico ci veniamo meno spesso Mimmo però è sempre un piacere questa è forse la seconda volta che facciamo una live in questa zona credo che dovremo tornare anche un po' più spesso perché merita davvero tanto salutiamo anche Silvana Ferrante Antonella Busalacchi c'è Antonella Veronica Genova vamos vamos ragazzi dice Mimmo come stai scrive Antone intervistiamo a Mimmo ragazzi intervistiamo a Mimmo intervistiamo come stai? sto tutto a posto sto abbastanza bene sta abbastanza bene sta abbastanza bene in prima linea come sempre salutiamo anche a Renz vamos vamos ragazzi Shinno quando meno te lo aspetti è vero Antonella ragazzi vi devo raccontare questa di Antonella vamos vamos ragazzi Antonella volta che l'ho visto che ci siamo visti veramente quando sei sceso Antonella credo a ottobre novembre era sotto casa mia ragazzi era sotto casa mia ragazzi cioè è arrivato sotto casa mia e mi ha detto scendi mi ha detto Shinni quindi è vero e quello è il suo motto ragazzi proprio incredibile grandissime si ha fatto una sorpresa era sotto casa mia ragazzi infatti mi sono vestito di fretta e furia e sono sceso abbiamo fatto una bella passeggiata a Mondello ci siamo stati a mangiare due belle arancine ma poi da poco un mesetto che scende? un mesetto e mezzo forse adesso qui è meno due molto freddo a bel grado eh sì quindi il motto di Antonella è un nome d'arte sì a parte essere un nome d'arte è il suo motto di vita salutiamo anche a Cinzia Guerra vamos vamos ragazzi vi auguriamo come sempre una buonanotte Mimmo ragazzi ci vediamo alla prossima buonanotte ragazzi da Palermo Mimmo ciao ci vediamo domani ragazzi in diretta su Panorama Italy poi domani mattina decideremo di mandare in base un po' al traffico insomma per essere il periodo è quello che è ragazzi ci vediamo alla prossima e grazie a tutti davvero per il supporto per le stelle e per le condivisioni vi raccomando ragazzi iscrivetevi su Youtube e dateci una mano alla prossima grazie di cuore un saluto ovviamente a tutto lo staff la nostra Giussi Anthony Giovanni Mimmo che è qui con me e ci vediamo come sempre alla prossima grazie di cuore amici un bacio da Palermo grazie di cuore amici